io vorrei parlare con lei di questo cd che è uscito all'interno di questa musica e regime per Nova Antiqua che è un cd molto particolare un cd per viola sola lei appunto è violista e dedicato a musicisti che appunto erano invisi al regime ci racconta facciamo parliamo innanzitutto di questa serie perché questo cd è il quarto cd di questa serie ci racconta com'è nata questa serie musica e regime e perché sì il progetto è nato in realtà per un motivo non musicale ovvero che un artista Michele Riccomini ha prodotto una serie di quadri e la mostra si intitola Voci dal Ghetto ed è ogni quadro ispirato a una poesia scritta da bambini o ragazzi che sono stati che hanno vissuto a Teresim che è una città ghetto che è stata città ghetto vicino Praga e veniva utilizzata diciamo come come città per gli ebrei prima che fossero poi mandate nei campi di sterminio e all'inaugurazione di questa mostra Michele Riccomini chiese a me ed altri artisti di suonare un concerto che fosse a tema e da lì è nata in realtà un interesse e uno studio su questo argomento non soltanto anche ovviamente ma non soltanto su compositori ebrei che sono morti in campo di concentramento ma più in generale diciamo l'interesse era come mai un regime vieta della musica che molto spesso è strumentale quindi non c'è nemmeno una strofa una lingua che può deridere il regime o può mettere in cattiva luce il regime molto spesso sono soltanto note e quindi come mai succede questo processo e in che modalità sono modalità molto diverse qualche volta appunto problemi razziali qualche volta problemi politici qualche volta problemi estetici cioè che la musica non rientra nei canoni di un regime nel nostro progetto ci sarebbe di indagare un po tutti i regimi però diciamo sono quasi dieci anni che siamo ancora fermi alla Germania speriamo di poter appunto anche guardarci intorno parlando soprattutto dei regimi socialisti dopo la seconda guerra mondiale sì sì quindi lei ha accennato è un progetto che ormai conta quasi dieci anni nel 2020 insomma sono i dieci anni in cui lo avete lanciato ci dice quanti cd sono usciti nel frattempo sì appunto il cd 2020 è il quarto della serie il primo era dedicato a una formazione per duetti di archi il secondo era una monografia su Erwin Schulhof che è un compositore polacco e il terzo invece è un disco dedicato anche alla musica vocale quindi c'è una cantante una mezzo soprano e un compositore Marcel Tiberg che tra l'altro ha molto a che fare con l'istria e il quarto cd è quello appunto per solo viola e ci sono lavori di sia di tedeschi come Paul Hindemith che erano appunto tra virgolette ariani e che però hanno avuto difficoltà proprio perché la musica non piaceva sembra proprio direttamente a Hitler Hitler era un amante della musica classica e per questo c'è stato anche un controllo così estremo della musica classica però ci sono anche compositori come Wander Sandor che è un compositore ungherese e poco conosciuto che è morto in campo di concentramento e diciamo questa pubblicazione rende un po' omaggio a questo compositore visto che la sonata è stata recuperata da una biblioteca a Budapest eseguita per la prima volta dal manoscritto ecco dunque vorrei un po' appunto parlare delle musiche che avete scelto in questo cd doppio cd io ho ascoltato tantissime con estremo piacere questi brani e diciamo che si tratta dei brani di un valore artistico c'è c'è musica c'è arte non è accademia non è diciamo qualcosa di trito e ritrito ci racconta lo so che è difficile ma ci racconta qual è stato il brano che lei ha preferito in questo in questo cd è piuttosto difficile perché forse proprio perché la musica dell'inizio del novecento è musica che guardava in tante direzioni faccio un esempio per persone che semmai non sono così informati sulla musica classica di quel periodo ma se uno guarda alle espressioni artistiche quindi i quadri che si facevano in quel periodo vediamo il post impressionismo in Francia vediamo Kandinsky quindi l'inizio dell'astrattismo ci sono l'espressionismo ci sono varie correnti e c'era anche la corrente futurista, la corrente realista diciamo tutte queste correnti in un altro linguaggio che è il linguaggio musicale ma erano presenti nel novecento quindi c'era sia il linguaggio diciamo che veniva dal romanticismo che è il linguaggio a noi un po' più vicino perché è il linguaggio che poi è stato trasportato nella musica da film e però c'erano anche i linguaggi nuovi quindi diciamo in questo disco ci sono tante strade molto diverse quindi è una domanda ancora più difficile che se dovessi scegliere se mi piace più la prima o la seconda Sinfonia di Beethoven però ci provo probabilmente il compositore trovato molto interessante è Gunther Raphael ha scritto una sonata che è composta come una suite cioè come una collezione di danze e questo era un po' un omaggio a Johann Sebastian Bach che scrisse 300 anni prima delle sei suite per violoncello solo ed ha un linguaggio che da un certo punto di vista è molto post romantico però indaga anche nelle nuove armonie che poi sarebbero scoppiate da lì a poco. Tra l'altro registrando il disco ho scoperto non lo sapevo che Gunther Raphael è stato insegnante di armonia al conservatorio di Detmolde in Germania dove io ho studiato quindi c'è anche un legame emotivo perché ho pensato ok sono passato anch'io da quei posti dove lui ha insegnato armonia. Certo sì devo dire che anch'io ho molto apprezzato questa questa sonata in realtà suite che è in realtà molto lunga e fatta da tanti tanti pezzettini che tutti insieme fanno diventare una sonata lunga infatti guardavo i diversi le diverse tracce oh siamo ancora qui siamo ancora qui poi ovviamente passando a Hindemith si sente subito il cambiamento di linguaggio il cambiamento di temperie dunque lei è un violista sappiamo diciamo chi ha un po' frequentato le orchestre sa che ci sono tutta una serie di barzellette sui violisti così come sui carabinieri mettiamola così però lei ci dimostra che la viola è uno strumento molto duttile molto capace di fare tante cose anche allargandosi andando verso il contemporaneo ci spiega un po' il suo percorso di studio come è arrivato alla viola probabilmente avrà iniziato il violino come un po' tutti insomma per poi passare decidere di specializzarsi e andare verso la viola è giusto? esatto è interessante è tutto vero quello che dice cioè primo che noi violisti veniamo presi in giro in ambito musicale un po' come i carabinieri e secondo che molto spesso si comincia col violino ma è una motivazione proprio fisica perché un bambino è piccolo il violino è un po' più piccolo rispetto alla viola quindi in genere un bambino comincia con un violino ancora più piccolo quindi il violino che ha un quarto due quarti tre quarti quattro quarti che il violino intero e poi più avanti si può suonare agevolmente le viole ora in realtà negli ultimi anni gli utai hanno trovato anche il modo di costruire piccole viole quindi ci sono anche i bambini che cominciano subito a studiare con delle viole che sono dei violini un po' diciamo un po' più cicciottelli e tra l'altro ora dico che è anche un gran peccato che nel percorso di studio si debba scegliere se suonare il vino o la viola e spiego il perché e torno anche al perché delle barzellette storicamente cioè fino a circa 100 anni fa 150 anni fa il violista era un violinista i violinisti potevano suonare il violino e la viola e all'occorrenza potevano suonare questo o quello strumento faccio un esempio Wolfgang Amadeus Mozart a parte essere un grandissimo pianista era un eccellente violinista però non ha scritto solo cinque concerti per il violino e orchestra ma ha scritto anche un concerto una sinfonia concertante per il violino viola e orchestra e sappiamo che lui all'esecuzione ha suonato la viola questo è soltanto un esempio tutti i violinisti suonavano anche la viola a un certo punto la specializzazione ha fatto sì che le strade si sono un po' divise questo non soltanto nel campo della musica anche nel campo della fisica che c'è il fisico nucleare e fisico elettromagnetica diciamo dal novecento si è tutto diviso e tutto specializzato e per questo che è nato la strada del violista e devo dire anche la strada del repertorio per viola perché prima non ce n'era bisogno in quanto un violinista aveva una sonata per il violino solo e con quello era contento invece appunto nel novecento si è i compositori hanno diciamo si sono approcciati molto più da vicino con questo strumento e per questo anche che le novecento ci sono molte sonate per strumento solo ed è stato possibile fare creare un programma che è entrato in questo disco diciamo sarebbe impossibile creare un disco per musiche per viola sola del dell'ottocento perché non ci sono non ci sono abbastanza musica e perché mi sono avvicinato alla viola è successo più o meno a 13 14 15 anni ascoltando delle musiche scritte per viola io ascoltavo la radio e mi sono detto ah che bei pezzi e poi ho scoperto che non era un pezzo un concerto per il violino ma un concerto per viola e allora da lì ho pensato di voler suonare questo strumento e ovviamente poi piano piano si comincia ad amare il proprio strumento e si pensa che è lo strumento più bello che ci sia ecco un percorso che abbiamo sentito l'ha portato anche in Germania come mai? è proprio perché il mondo musicale e il mondo della viola è un po' più piccolo per esempio se cercate uno strumento stradivari per dire ci sono circa 300 violini e ci sono sei violi anche nell'insegnamento è un po' così gli insegnanti di violino ce ne sono tanti di viola molti meno io ho avuto la fortuna di studiare già da studente con Piero Farulli che era il violista del quartetto italiano quindi uno dei più grandi violisti in Italia uno dei due tre più grandi violisti in Italia ha concluso questo studio ho continuato con la prima viola della scala Danilo Rossi e poi è stato forse quasi automatico volersi aprire al mondo e quindi sono andato a studiare in Germania in realtà con un insegnante giapponese Nobuco Imai ho suonato anche in qualche orchestra in Germania e poi caso vuole nella vita che sono ritornato proprio a casa io sono fiorentino e ora sono la prima viola dell'orchestra della Toscana allora lei viene spesso dalle nostre parti perché ha un po' diciamo un rapporto con il festival Victor Ullman e che l'ha visto appunto anche a fare dei concerti ci sono delle uscite future che la porteranno qui da noi cioè in zona Trieste, Istria, da queste parti? sicuramente al festival Ullman ormai siamo quasi degli ospiti fissi parla al plurale perché appunto questo progetto è portato avanti da un gruppo si chiama Ensemble Raune e era preventivato un concerto in sestetto per eseguire appunto il sestetto di Marcel Thiberg che poi è saltato per via del covid e penso che verrà recuperato ecco e devo dire che tra l'altro grazie a un concerto a Gorizia che abbiamo fatto abbiamo pensato anche al programma che sarà il programma del prossimo CD quindi Musica Regime 5 però non dico niente così lasciamo un po' di suspense per i musicisti è un programma in trio d'archi, violino viola e violoncello quindi penso sì diciamo massimo nel 2022 più o meno bazicheremo tra quelle zone allora ci ha accennato a un compositore di cui avete fatto un CD che era legato all'Istria ci spiego un po' chi è questo compositore e come mai sapete che era legato a queste terre e quindi all'Istria sì, la scoperta di Marcel Thiberg come ho detto nel progetto ci sono tanti compositori alcuni sono famosi, sono rimasti famosi e altri invece sono scomparsi un po' nell'oblio Marcel Thiberg è un compositore di cui nessuno sapeva niente e ora che vi racconterò la storia capirete perché è nato a Vienna e si è trasferito nel 1927 a Abazia questo è il nome italiano, giusto? certo all'epoca era territorio italiano la vostra regione secondo me è veramente un simbolo di quanto è stata difficile la storia nel Novecento ed è sempre molto emozionante vedere quanta sofferenza ma anche quanto scambio di cultura ci sia stato ora lo vediamo dopo un secolo dopo e possiamo dire che è stato anche uno scambio di cultura quindi appunto Marcel Thiberg che era un compositore austriaco si viene in Italia per lavorare ad Abazia e dirigere un'orchestra, l'orchestra sinfonica di Abazia che era un'orchestra che non suonava diciamo tutto l'anno si ritrovava in alcune produzioni ogni anno ed è rimasto in Abazia fino al 1943 quando è stato poi condotto prima alla risera di San Sabba e poi ad Auschwitz nel campo di concentramento e pensate perché aveva un sedicesimo di sangue ebreo la madre purtroppo non fu molto intelligente segnando un suo bis bisnonno il bis bisnonno della madre di Marcel era ebreo e segnando questo ha segnato un po' il destino di un suo figlio e prima di essere arrestato Marcel Thiberg ha lasciato a un suo amico che si chiamava Milan Michic tutte le sue composizioni sono tre sinfonie, una messa due composizioni di musica da camera queste composizioni sono state diciamo messe in valigia da Milan Michic che poi è fuggito subito dopo la seconda guerra mondiale e si è trasferito a Milano e poi il nipote si è trasferito invece a Buffalo negli Stati Uniti il nipote alla fine della propria vita cioè si parla dell'inizio del 2000 ha cominciato a tirare fuori questi manoscritti ha contattato l'orchestra di Buffalo e hanno cominciato a riscoprire queste musiche e ho avuto ancora la fortuna di parlare con questo Enrico Milic purtroppo è scomparso da un paio d'anni e abbiamo avuto appunto il contatto per poter eseguire per la prima volta il sestetto di Marcel Tiberg che è un sestetto incredibile tutta la musica di Marcel Tiberg è incredibile e quindi ancora più incredibile che ora non sia conosciuto per niente certo bene Stefano Zanobini noi la ringraziamo molto per averci raccontato tutte queste cose e tutte queste storie contiamo di rivederla dal vivo e non più in remoto come adesso quando verrete a fare un concerto a Trieste chissà magari anche in Istria magari che ne so a Gorizia vediamo insomma in questo giro di orizzonte nel posto che noi viviamo saremo molto felici di incontrarla dal vivo grazie mille grazie, grazie a voi grazie a voi